ciao a tutti benvenuti in un mio nuovo video oggi vi voglio far vedere delle cose che ho acquistato sono poche cose e poi qua al lato vi metterò un video di un riordino che ho fatto di un mobiletto che avevo acquistato in un negozio di cinesi prima di iniziare come sempre vi ricordo solamente se vi fa piacere di supportare il mio canale iscrivendovi e se vi va supportatemi anche negli altri social ora iniziamo subito così vi mostro i pochi acquisti che ho fatto allora qua dietro c'è un pacco che devo preparare per vintage un altro lo sta chiudendo mio marito devo fare due spedizioni a proposito di vintage ultimamente mi sta venendo voglia di lasciar perdere vintage perché c'è una maleducazione incredibile incomincio nel dirvi cosa sto utilizzando sulle labbra la matita di astra 04 e lip criminal o criminal la numerazione la 7 poi per quanto riguarda il profumo non ce l'ho qui sto utilizzando un profumo polis che ha ricorda baccarat rouge ve l'avevo mostrato in qualche vecchio video i primi due acquisti che vi voglio mostrare li ho presi con una rivista silhouette stranamente sono riuscita a trovare due uscite o meglio mio marito è riuscito a trovare due uscite me le ha volute prendere entrambe una è questa palettina sembra che ci fossero aria fuoco acqua comunque fuoco e sono i colori praticamente che sono quelli che io vado sempre a ricercare la sto utilizzando tantissimo oggi non mi sono truccata comunque con questa palettina dopo ve li mostro suocciati la seconda uscita che ha preso e questo casual mi sembra che sia eclipsi il colore sembra tra il viola il grigio e nero questo ve lo mostro subito suocciato e questo qui dopo cerco di rimuoverlo subito perché è difficile da far andare via anche con il bifasico prima di mostrarvi le altre cose c'è le altre cose un altro acquisto altrimenti lo sporco poi capirete perché vi suoccio queste colorazioni sono nove colorazioni sono molto pigmentati quindi questi sono i primi cinque e ne ho ancora nelle dita questo per dirvi che veramente sono parecchio pigmentati per essere una palettina di essence sinceramente la trovo ottima ho prelevato gli ultimi quattro ve li metto qua perché e questi sono gli ultimi come potete vedere sono molto pigmentati utilizzati con un pennellino in diagonale di precisione e ho fatto il liner anche all'interno della palpebra superiore quindi questa palettina mi è piaciuta tantissimo mi pulisco poi un altro acquisto che ho fatto l'ho fatto per me e per federica per me la taglia l per federica la taglia m perché non c'erano altre taglie in quanto quest'articolo l'ho acquistato da zuiki e sono terminate tutte le taglie ero la ricerca di un giubbino tipo che way non so se voi ve li ricordate che comunque sono attualissimi ma io sin da ragazzina che way l'avevo ne ho uno o meglio ne abbiamo cinque che teniamo in macchina per quando magari partiamo e ci serve un giubbottino ovviamente d'estate d'emergenza solo che il mio rimane un giubbottino un po corto tra l'altro ce l'ho da parecchi anni ma non mi va di gettarlo perché praticamente è nuovo e volevo un giubbottino tipo che way ma proprio da mettere prendere in borsa avere a portata di mano perché io non amo portare l'ombrello serviva anche a federica mi sono ricordata di averli visti da zuiki fanno la versione corta e la versione un po più lunghetta tipo il parka volevamo prendere il lungo poiché federica deve fare un viaggio le serviva un giubbotto del genere da mettere proprio che non occupasse lo spazio quello che a me piaceva di più era quello in versione lunga che tra l'altro è scontato da 20 euro a 10 euro praticamente regalato la m la devo ritirare domani quella di federica in un altro punto vendita mentre la l l'ho trovata e l'ho acquistata il giubbino in questione è questo ai cursori e la metalleria argentata cappuccio qua un laccetto interno per poterlo stringere l'unica pecca che le tasche non hanno la zip questa è proprio l'unica pecca però considerando 10 euro e considerando che comunque anche qualitativamente a me piace perché comunque ho il che way non c'è non noto tutta questa differenza per 10 euro ho voluto prenderlo al lato vi metto le foto di quelli che ho indossato quello blu è in taglia m quindi la vestibilità non è piccolina lo facevano questo in tre colorazioni questo che è un bianco tra il bianco il color latte non è un bianco candido meglio poi facevano il blu che è quello che vi ho mostrato in foto e poi verde oliva che non era presente nel negozio online mi sembra che a seconda delle taglie si riesca a trovare qualcosa quindi questo è stato un altro acquisto che ho voluto fare e ve l'ho voluto mostrare qualora potesse interessare a qualcuno questo è un colore neutro che secondo me riesco a sfruttare maggiormente poi comunque veniva fatto solo in queste tre colorazioni questo quello più abbinabile mi sono dimenticata di farvi vedere la disponibilità delle taglie io ho provato il negozio l'xl perché era disponibile anche l'xl ma era un po troppo abbondante a l secondo me è un giusto compromesso mi stava anche la m ma un giusto compromesso qualora appunto volessi mettere sotto una giacca in quanto con questa lunghezza è possibile mettere anche delle giacche o una felpa quindi la l risultata perfetta allora passiamo al riordino di un mobiletto in plastica girevole che avevo acquistato in un negozio di cinesi non mi ricordo se l'avevo pagato 30 insomma non era economico e devo dire la verità non lo ricomprerei perché gli spazi non sono degli spazi che si possono utilizzare con facilità perché hanno delle forme che non consentono di utilizzare proprio al meglio tutti gli spazi presenti prima lo tenevo in camera sul comò perché avevo la mia postazione make up messa da un'altra parte poi ho deciso di portarlo in bagno e ho deciso di togliere dei prodotti che erano all'interno e di conservarli nei cassetti e di mettere sopra dei prodotti che sto utilizzando ultimamente come per esempio anche questo rossetto di astra insieme alla numerazione 6 quindi ho deciso di mettere al di sopra per fare un qualcosa di più ordinato gloss quelli di kiko che possiedo poi ho voluto mettere i rossetti di astra ho voluto poi mettere così le termino delle tinte labbra di revolution delle tinte labbra di kiko sempre quelle sempre in mousse così le ho a portata di mano mi ricordo le utilizzo le termine così leggetto vi ho detto che sto cercando di utilizzare sino alla fine i prodotti e incominciare ad eliminare un po di prodotti vecchi che comunque non sono andati male quindi posso ancora utilizzare poi ottenuto anche dei rossettini di mac non ne ho tantissimi 4 se non ricordo male perché cercavo una sistemazione per i miei labello la collezione si sta ampliando e quindi sono riuscita a metterlo in questa nella parte di sopra tutta laterale tutti i labello suddivisi in base alla versione quindi crayon oppure i classici labello quelli fruttati insomma ho cercato di fare un qualcosa di più ordinato e averli a portata comunque di mano perché mi piace si collezionare ma mi piace anche utilizzare anche perché sennò le cose alla fine vengono gettate mentre per quanto riguarda gli altri spazi non ho messo tantissimo ho in mente di far girare delle palettine per poterle utilizzare questa io l'ho tolta momentaneamente l'ho voluta mettere quindi all'interno insieme a una palettina di cosma e fai che quando avevo preso utilizzavo ma non tantissimo la sto utilizzando di più ultimamente sono in fissa con questo colore che poi un colore che comunque mi rappresenta e in quella palettina sono presenti tante tonalità dell'arancio del bruciato marrone bruciato insomma la sto utilizzando anche quella tantissimo adesso sono passata questa perché ce l'ho da due giorni e ho voluto mettere quindi quella questa qui una palettina di di marianna sempre per cosma e fai poi ho tenuto delle palettine al di sopra più piccoline come quelle di kiko un'altra che avevo acquistato con i colori sempre del blu e del grigio palettine che ho in mente avendole a portate di mano di utilizzare poi quando le avrò utilizzate parecchio e mi sarò un po stancata cercherò di sostituirle di metterne delle altre quindi non ho voluto caricare tantissimo quello spazio in un altro lato ho tenuto i miei fondotinta piccolini di kiko che venivano utilizzati o meglio li utilizzavo in combo con la loro crema mi è rimasto un tubetto di crema e un'altra altre quattro colorazioni 4 5 colorazioni mi manca solamente la 3 le trovo comodissime non hanno un altissima coprenza ma anche quelle sfruttabilissime ho in mente di lasciarle a portata di mano per utilizzare anche loro e finalmente terminarli perché ne avevo preso due per ogni colore il 3 non ero riuscita a trovarlo in un altro lato ho voluto tenere il fondotinta o meglio la bb cream con protezione solare poi lo stick che avevo acquistato da primark lo utilizzo soprattutto quando utilizzo vestiti per evitare che le cosce sfreghino indipendentemente dal peso è ovvio che pesando di più ho più possibilità che mi possano sfregare rispetto a una persona molto magra e quello stick oltre a essere utilissimo anche una profumazione bellissima e ho messo anche lì il la protezione solare 50 di decathlon che vi ho mostrato adesso non ho qua ma anche quello è uno dei nuovi acquisti che ho acquistato da decathlon comodissima quindi da portare a presso me lo porterò anche quando farò un viaggio in moto e anche il burro di cacao sempre col fattore di protezione viene fatto anche con protezione 30 io ho voluto prendere la 50 quello viene se non ricordo male sotto i 7 euro o 650 o 6 99 comunque pochissimo non c'è tantissimo all'interno perché ci sono 20 ml ma secondo me la quantità giusta per non sprecare prodotto e acquistarlo in base all'utilizzo piuttosto che avere dei tuboni enormi che alla fine personalmente io vado a gettare e comunque non sono comodissimi da portare a presso quindi è giusto compromesso quindi il mio video termina qui spero di avervi tenuto compagnia con una specie di riordino decluttering perché poche cose le ho anche gettate vi farò vedere a giorni un ordine che ho fatto ho preso la decisione di farmi il colore da sola quindi non solo sto facendo le unghie da sola ma ho deciso di eliminare un'altra spesa a parer mio inutile inutile nel senso si a tutti piace andare dal parrucchiere piace andare dall'estetista però con i tempi che stiamo vivendo attualmente dove tutto è reincarato anche a livello spropositato io ho deciso di eliminare le cose superflue l'ho già fatto negli acquisti perché se voi notate i miei video sono cambiati qualcuna mi ha detto michela non stai più comprando gioielli oppure comunque anche i trucchi mi piaceva molto il pack mi piaceva quella palette l'acquistavo ma secondo me erano anche troppi acquisti e molte cose alla fine le regalavo e venivano sprecate no più intenzione di sprecare e quindi ho deciso di indirizzare i miei acquisti sulle cose che mi servono sulle cose scontate a meno che proprio non mi piaccia un qualcosa voglio cercare di non acquistare o abbigliamento borse o comunque cose troppo care di avere la possibilità di cambiare che poi noi donne siamo sempre alla ricerca di abbinamenti piuttosto che comprare poche cose care sono ripassata comprarne un po di più ma economiche anche perché come vi ho già detto i vestiti non ci mancano le borse tanto meno i gioielli pure quindi ho fatto la scelta di farmi il colore da sola magari non mi verrà nella maniera nella quale mi viene con la parrucchiera però comunque sia io per i capelli sono sempre pignola e ritengo che va bene spendere soldi però se esci dal salone che sei soddisfatta al cento per cento comunque essendo io molto pignola e rendendomi conto che questo non accade perché la copertura dei capelli bianchi è difficilissima quindi non dico che la mia parrucchiera che non riesce a coprirli ricordandomi di quando lo facevo da sola quindi ho deciso di continuare a fare il colore del marchio che appunto mi faceva la parrucchiera anche se lei comunque miscelava anche aziende differenti utilizzerò un'azienda che è la goldwell che è il colore che ha iniziato a farmi la parrucchiera qua nella mia città però mentre lei miscela diverse tinte insieme per arrivare a questo colore una parrucchiera di roma è stata gentilissima e mi ha spiegato come funzionano questi prodotti della goldwell quindi mi sono fatta un giro di conti prima di prendere una decisione del genere e vi dico solo che io di prodotti per un anno e mezzo non spendo più di 300 euro facendo il colore due volte alla settimana come lo sto facendo adesso contro i 70 60 70 euro a seconda del colore che mi faceva se lo portava nelle lunghezze o meno per due volte al mese quindi di 120 140 euro mensili per un totale un anno e mezzo di 2004 2500 euro quindi capite bene che una cifra del genere incomincia a influire parecchio su un budget familiare i tempi attuali per quanto mi riguarda non lo consentono e quindi ho deciso di togliermi un vizio che per me non aveva una priorità elevata come altri per esempio il momento della colazione giornaliera con mio marito al bar e impagabile per qualcuno può sembrare futile può sembrare un vizio ma io preferisco viziarmi con un momento nostro come quello della colazione che noi facciamo da quando andavamo all'università piuttosto che del colore che sono in grado di mettermi anch'io ovviamente non uscirà perfetto però sarò orgogliosa di volta in volta nel dire oggi ho risparmiato 60 euro quindi ecco ho preso questa decisione per quanto riguarda la piega che poi è quella che mi ha portato dal parrucchiere perché volevo capire se i miei capelli fossero cambiati perché sono diventati molto crespi ho comprato una piastra a roma che vi avevo tra l'altro mostrato in un video e quindi ho deciso di utilizzare prodotti buoni quindi di non accontentarmi di prodotti per tingere i capelli acquistati nei supermercati perché il mio colore non è un colore facile non è come un castano addirittura come un nero un colore un po più complicato ho deciso di affidarmi a un'azienda della quale la parrucchiera di roma mi ha fatto veramente innamorare perché mi ha fatto capire che questa azienda oltre a colorare cura in contemporanea il capello mi ha detto anche come distribuire il colore mi ha spiegato di non trascinarlo ma di picchiettarlo perché sennò il capello bianco non viene coperto bene e di non andare al di sopra neanche un po perché il colore giustamente si piomba e quindi va a caricare colore su colore un'altra cosa che mi ha sconsigliato di fare e di fare la tinta su tutti i capelli perché la parte diciamo già colorata andrebbe piano piano a scurirsi sempre di più e che è una cosa che ultimamente non si dovrebbe non si fa più quindi insomma mi ha dato delle dritte io spero di riuscire a a seguirle ovviamente non sono parrucchiere quindi l'errore ci può stare ma i capelli per me sono la parte più importante del corpo quindi farò di tutto per avere un risultato impeccabile non vi dirò quando terminerà il momento tra la parrucchiera e dove subentrerò io così mi dite magari sotto nei commenti se vedete delle differenze più avanti farò un video dove vi mostrerò le miscele che farò per fare il mio colore un video tutorial amatoriale perché non sono esperta quindi il mio video termina realmente qui spero come sempre di avervi tenuto compagnia e io vi do appuntamento prestissimo con un mio nuovo video ciao a tutti e vi auguro una buona serata